di christian de sica buongiorno a tutti sono christian de sica esattamente è venuto è venuto male ricomincia non posso ricominciare tv veri te fraternite quindi vi passo il mio amico christian de sica si sono io ma che è? una caponata oh christian oh ma che cazzo stai a registrare ma è una cosa pazzesca ma stai a registrare un video ma che è una caponata si tipo christian dobbiamo giocare a call of duty va bene ma che è una caponata call of duty ma che è una cosa pazzesca ma è una caponata oh ma che è sta roba ma che eh ma io coppi la mappa ma la caponata psicologia ma che acquari såh ma che dicono che capica il poche mappina o di volta dove voi ti SPD dav Bendito aveva le firla ma perché nel video ne viene male perché la cosa pazzesca Maybelline manahah ma non mi viene più bene ma è una cosa pazzesca comunque ragazzi incredibili siamo in compagnia di christian de sicca siamo stiamo facendo un bellissimo tipo che stava il cugino e il cugino dei cristian sembra anche per me perché sul cugino non so perché mi è venuto il tono di di lama in questo momento sono la ma bella tutti i ragazzi sono lama e sono in compagnia di velo qua ciao tutti i ragazzi tutti i ragazzi sono una niente questo quale è una partita siamo siamo qui con christian de sicca e velox una cosa pazzesca sono con velox con christian de sicca ma è un video del cazzo sto usando una una classe molto carina che mi pare che sia il cuda mi pare sia cuda un cuda si dovete supportare una cosa pazzesca sono supportata è un cuda selvatico un cuda selvatico porco il lama porco il lama porco il lama a tutti ragazzi oh ma non c'è assomiglio per niente vero la lama bisogna reagire porco il lama porco il lama ma che cazzo ma è una cosa pazzesca bombia cosa pazzesca basta che dopo se no vabbè ti senti male dopo christian a raggiar via volevo giocare perché steno durante la live tutto più difficile ragazza ma questo qua neanche muore cioè non muore mai questo una figa ma dio tanto ecco il tempo speciale un lama ho visto un lama che si aggirava per da queste parti ma non ho visto più ma porco il cazzo basta o sto morendo troppo ma la cosa pazzesca ma non riesco a uccidere nessuno c'è ho visto un lama l'ha informato ma la cosa pazzesca ma non riesco a ma alla fine non sono riuscito neanche a prenderla ma con le carte di gomma era matte vestito da donna e voglio anche io l'orto mio che bello lo porto io porto io come sprecare mimetizzazione perché tanto non serve a niente la cosa più inutile al mondo è la cosa più inutile al mondo comunque comunque ragazzi sono lama benvenuti in questo tutte le zone conquistate la ma la grande quella non mi sembra mica la ma la ma è sardo perché la ma la ma che la mandoschi la mandoschi comunque cristiana come come sta procedendo la prestita ma la partita sta procedendo abbastanza bene però capito siamo il partito non si riesce mica a giocare dei mille corti ti vengo dare una mano calmo calmo che non si sente niente l'energia al 5 per cento ma è una cosa pazzesca ma è una cosa pazzesca pronto? si sono Cristian Cristian mi consenta ciao ma scusa ma il party lo Savino? ma in realtà questo è un picnic insieme a Cristian de Sica ma abbiamo invitato Nicola Savino ma ci stava pure l'idea dei fatti Nicola Savino Nicola Savino sono io sono Nicola Savino e a me piacciono i piedi cosa? a me non piacciono i piedi comunque 25 mi piace facciamo un picnic con Gianni Morandi prossimo un abbraccio a tutti ci facciamo un autocasso e ci abbraccerà con le sue grandi manole un abbraccio a tutti amici miei spero di esservi stato di aiuto nel trovare la felicità la merda la merda è buona buona un abbraccio a tutti amici la mimetazia la mimetazia dov'è la gente qua? cioè io uso mimetizzazione quando non serve a niente ci facciamo un autoscatto sì che bello ho appingati buoni 5 o perché lag? vabbè perché tu laghi che devi fare vai così ragazzi buona buona è il live più brutto della storia è il tipo live ho fatto più schifoso della storia ma tanto sta giocando Christian De Sica ma tanto siamo agli inizi che cazzo ce ne frega porca troia esattamente comunque vi ripeto a 25 mi piace e subito il picnic con Gianni Morandi lo canteremo facciamo un autoscatto e ci darà un grande abbraccio con le sue mani ma piccolo grande amore lo cantava Baglioni o Morandi è uguale è uguale la stessa persona lei era un piccolo grande amore solo un piccolo grande amore ma questo che tipo lancia lancia peti mi manca da morire questo piccolo grande bocca faccia ha una paura comunque ci sono malattia figlia del culo poco di ho messo facendo le stragi di 15 torti è ovvio perché mi deve laggare no è figa arriva il nemico non si vede mi sembra anche giusto se non ti lagga non vedi che si gioca voglio vuoi mettere a giocare senza lagg ma che sei pazzo ma che è una cavo nerda ma non puoi giocare senza lagg minchia se sta scritto nella costituzione italiana sembrava christen desighe col morbo di parkinson ma che è una cavo nerda ma che è una cavo nerda ma che è una cosa pazzesca ma che non ho un morbo oh occhio stanno su C oh ce n'erano tre figa erano SK appunto arrivo lagg ma una cosa pazzesca ma erano SK volvi volvi vabbè ovviamente io muoio sempre quindi è giusto no vabbè tanto finché non ci facciamo i nostri iscritti i nostri followers cazzo ce ne frega ma ma si ma che ce frega possiamo anche giocare da schifo ma guarda come mi lagga porco cane cosa porco ma non posso proprio no no non puoi pronto allo schieramento ma si ma che te frega ma si ma che te frega tanto alla fine ti vuoi che ti ciego cazzo ma questo non muore mai questo non muore mai con calma con calma portiamo un uomo l'ho tirata per metà occhio arrivano da da live con a del oh ma che questa partita ha degli spawn strane stiamo perdendo stiamo perdendo vabbè io ci ho provato poi stiamo perdendoci pure no ma questo non muore oh non muore neanche se se gli sparo con sto a vedere me ne giochiamo fate proprio che cazzo in 4 a k ma che cazzo ragazzi me l'ha partita questa venga venga soca vabbè basta fare limitazioni perché diciamo che mi sono rotte un po' i coglioni ma ma sono sono certi in altri oh ma cazzo ma che palle ma giocano di merda tipo da campo il talon adesso no la batteria è morta alfa è nostro perdiamo a pure il drive a disposizione perimetro stabilito 4 a 10 mila di 3 4 misure elettroniche ah ho distrutto il talone dai 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 cristian ho distrutto il talone magari una cosa pazzesca eh ho distrutto il talone tutto bene va bene vai cristian no ma perché il ride è una cosa pazzesca non mi viene più non mi viene più minca volvi volvi non mi viene più e le morire devi morire chissà come viene la registrazione mamma mia la registrazione rendiamo bravo oh ma cioè quelli non muoiono eh stiamo perdendo comunque anzi abbiamo perso boh basta io non gioco più me sono rotto il cazzo perché no perché è banale no tu sei banale tu sei banale è di banale 1900 banale ma è banale vediamo un po' si beh vabbè sono buggati ma guarda che squadra penosa che avevamo vabbè io ho fatto il risultato del cazzo ma vabbè stavo facendo le imitazioni beh ciao a tutti ragazzi alla prossima direi eh forse si perché no bella al prossimo sarà un video interessante magari non più una live perché ci siamo un po' tutti delle live ciao ah bella ragazzi vediamo la prossima eh torretta rinforzata vabbè 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 ragazzi ci vediamo per un prossimo episodio boh vediamo prossima volta di cambiare anche gioco forse forse arrivederci raga ragazzi bella prossima chiudo qua bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti